Amici siamo appena rientrati, una bellissima mattinata all'insieme del divertimento e direi che qualche pesce è uscito. Andiamo per pescare a Bolentino, quindi piombo in fondo e due treami sopra, con le solite esche, calamaro, totano, battuto, sardina e anche qualche verme. Bene, vi lascio subito agli immagini di oggi con diversi highlights. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.